Cosa c'è al di là del muro? Per rispondere a questa domanda, segui con attenzione le tue sensazioni, ascoltando la mia voce. C'è un muro davanti a te. Quanto è distante da dove sei? Ti avvicini, lo osservi, poi lo tocchi. Di che materiale è fatto? Qual è la sua consistenza? Il colore? Che sensazioni provi? Ad un certo punto il muro inizia a modificarsi, perdendo piano piano la densità iniziale e permettendoti molto lentamente di intravedere che cosa c'è al di là, in modo prima sfocato, poi sempre più nitido. cosa vedi al di là del muro? Cosa vedi adesso al di là del muro? cosa vorresti vedere al di là del muro?